Cos'è il fluido nell'orecchio? Quando la tromba di eustachio è ostruita o danneggiata, ne risulta un liquido nell'orecchio. I termini medici per questa condizione sono otite media sierosa e otite media conversamento. Le trombe di eustachio trasferiscono muco e altri liquidi dall'orecchio alla gola. Se i tubi si intasano, il fluido penetra nell'orecchio medio e causa complicanze uditive. L'otite media è latina per infezione fluida dell'orecchio medio. Il termine otite media conversamento significa che c'è fluido dietro il timpano. Questi sintomi di infezione possono essere acuti, il che significa che si presentano improvvisamente, o cronici, il che significa che i sintomi durano per un periodo prolungato di tempo. La maggior parte delle persone soffrirà di un'infezione all'orecchio ad un certo punto della propria vita. I bambini sviluppano fluido nell'orecchio più spesso di qualsiasi altro gruppo di età a causa della struttura delle loro orecchie. Anche i nuotatori sono sensibili all'otite media a causa della quantità di tempo che trascorrono sott'acqua. Questo tipo di infezione all'orecchio è comunemente indicato come l'orecchio di un nuotatore. Il fluido nell'orecchio è il risultato di gonfiore o blocco della tromba di eustachio. Il tubo drena i liquidi consentendo alla pressione dell'aria di forzare le sostanze liquide nella parte posteriore della gola. Allergie, raffreddori comuni, infezioni virali e forza brutta all'orecchio possono causare il rigonfiamento della tuba di eustachio e l'inibizione del drenaggio dei liquidi. Di conseguenza, il liquido nell'orecchio inizia ad accumularsi. I sintomi dell'infezione variano a seconda dell'ampiezza dell'accumulo di liquidi se tali infezioni dell'orecchio sono croniche o acute. Se l'otite media è acuta, il dolore sarà più grave. Le infezioni dell'orecchio cronico sono in genere meno dolorose, ma possono danneggiare in modo permanente il timpano, causando la perdita dell'udito. Nausea, mal di testa e vertigini sono anche sintomi associati al liquido nell'orecchio. I medici rilevano il fluido nell'orecchio attraverso l'uso di un otoscopio. Gli otoscopi ingrandiscono l'orecchio interno e consentono ai medici di vedere il timpano e l'orecchio medio. Di solito, un medico sarà in grado di vedere il liquido, che in genera ha una sfumatura gialla o verde. Il fluido nell'orecchio potrebbe non richiedere un intervento medico. In tali casi, i livelli di gonfiore e liquido diminuiscono con il tempo. Se l'infezione è più grave o il dolore è schiacciante, un medico può prescrivere farmaci. E hardrops, benadrillo o antibiotici possono essere prescritti per trattare l'infezione e abbassare i livelli di liquidi. L'aspirina può anche essere raccomandata per alleviare il dolore associato al liquido nel l'orecchio.